Carifac nell'occhio del ciclone. Presentato in pompa magna il piano di rilancio da parte di alcuni soci imprenditori contrariati da quella che senza mezzi termini definiscono una svendita dell'istituto di credito fabrianese a favore di Veneto Banca. Illustrata presso l'oratorio della Carità la proposta di azionariato diffuso. Il progetto alternativo è quello che anziché cedere la banca ad un gruppo la Carifac resti una banca locale con nazionariato locale e quindi sostanzialmente che possa pensare a un progetto di banca regionale marchigiana. Questo è l'obiettivo anziché cedere la banca ad un gruppo bancario che ha tutte le caratteristiche ma che non ha la centralità rispetto alle marche. Tra i punti più salienti del progetto un aumento di capitale di 140 milioni di euro e l'impossibilità per tutti i soggetti che vi aderiranno di sottoscrivere azioni oltre il 2% del capitale sociale. Questa situazione è stata cristallizzata dall'intervento della Banca d'Italia che ha imposto l'operazione di aumento di capitale di 140 milioni e l'ingresso in un gruppo bancario. Come questo sia avvenuto, oggettivamente bisogna chiederlo a chi ha gestito la banca nei periodi pregressi. Ecco, una cosa però ritengo che sia opportuna e corretto dirle. Oggi esistono per la Carifac più progetti, quindi significa che esistono più soluzioni di investitori che intendono investire le proprie risorse nella Carifac e quindi pensando a un brillante futuro. La crisi della Carifac ha inizio nel 2008. Veneto Banca acquista il 4,5% delle azioni dell'Istituto Fabrianese dalla fondazione Carifac che deteneva il 45,6% del pacchetto azionario. L'accordo permetteva inoltre al gruppo trevigiano di salire al 27,4% mettendo sul piatto 70 milioni di euro garantendo così una boccata d'ossigeno alla Carifac. Ma non solo. Veneto Banca, secondo l'accordo ancora vigente, può beneficiare di un'opzione call che le permetterebbe di raggiungere entro il 2011 il 50,1% del capitale Carifac. L'investimento è stato regolato per un terzo in contanti e per due terzi sulla base di un concambio azionario di titoli veneti da 35,5 euro ciascuno con azioni Carifac valutate 3 euro. Il punto nodale è che ora le azioni Carifac hanno subito un forte depreciamento per cui l'accordo che stimava per Veneto Banca un esborso pari a 230 milioni di euro ora è stato rivisto a ribasso per un valore di soli 60 milioni di euro. Per questo si è scatenata l'offensiva di alcuni piccoli soci che hanno realizzato un progetto alternativo a Veneto Banca tra questi Francesco Merloni, Gennaro Piera Lisi, Walter Darini, Massimo Virgili e Mario Pesaresi che insieme conterebbero sul 5% circa della Carifac. L'accordata non è nuova, negli anni 90 infatti lo stesso quintetto è scese in campo per un'altra banca locale la Popolare di Ancona.